Ancora Francesco Totti, 17 gol stagionali per lui, nessuno in Coppa Italia, la lunga rincorsa, la palla che filtra e questo è un gran gol, fu un cappello a Francesco Totti. Gran gol, gran gol, palla, non so come si è finita sotto i principali, non mi sembrava molto angolata, però molto forte e avviati l'ho solo guardata. Gran gol di Francesco Totti, il gol numero 18 della sua stagione, rientra, rientrava, è rientrato in prima squadra dopo 24 giorni di inattività, rivediamo ancora il suo destro, passa attraverso, come faccia a passare attraverso quella barriera? Non si sa, lo vediamo adesso. Se lo sta chiedendo anche Ancelotti, Ancelotti ha detto ma da dove è passata? Abbiamo visto adesso da dove è passata. È passata con l'esterno destro, ha girato la barriera.